Professor Sanna, direttore del DICAR del Dipartimento che si occupa di Ingegneria Ideale, Ambientale e Architettura, se dovesse trarre un bilancio, un rigo di, come dire, sul merito e sulla forma di questa prima conferenza della ricerca, che segno avrebbe? Ma insomma, noi abbiamo provato a comunicare, tanto tra noi e poi col mondo. Devo dire che su entrambi i fronti il segno è positivo perché, insomma, il mondo Ingegneria e Architettura e non solo ha risposto bene e, insomma, professionisti, imprenditori, istituzioni, direi anche, quindi siamo soddisfatti. Ecco, a proposito di istituzioni, chiaramente va rimarcata la presenza, viste le contingenze politiche e amministrative, va rimarcata la presenza del Presidente della Giunta Regionale, Francesco Pigliaro. Che tipo di innesco può avvantaggiare questa relazione stretta col vertice della Regione Sardegna? Beh, intanto sappiamo che la Regione è uno dei grandi supporter dell'Università e che questa cosa venga ribadita, confermata, rilanciata, per noi è intanto una condizione di esistenza di vita e poi è un fatto estremamente positivo.